musica musica what the aaaah aaaah musica 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 akuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio che per 89 siamo tornati su resident evil 4 ragazzi innanzitutto vi volevo ringraziare per il supporto che state dando a questa serie grazie grazie infinitamente grazie per tutti i like per tutti i commenti veramente mi fa tanto tanto piacere siamo arrivati a questa nuova missione tra l'altro non dovrei registrare oggi resident evil perché già ce l'ho pronto per domani ipoteticamente no eeeh quindi non dovrei però quanto mi fa di registrarlo ragazzi aaaah ho capito che pezzo è perché voi siete dei bastardi in particolare uno perché fa io non vedo l'ora che ciccio arrivi al punto dei misteri da sta roba qua non mi dite come butto giù sta guarnigione ooooh ok azz elicottero di supporto grazie madonna che figata ragazzi comincia a lanciare missili ma fai come te pare aia questo lo butta non giù un zero secondi secondo me ah si ma spara direttamente i missili madonna mia oh ragazzi è fighissimo oh ragazzi è fighissimo posso guidarlo anch'io per favore bellissimo bello 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 ma lino ma c'è il microfono rosa del dell'auricolare grazie mike sei gentilissimo ok vediamo se in questa zona c'è qualcosa da prendere anche se secondo me aaaah anche se secondo me non la non la troverò eh mike ma bene cortesia me butti giù quello stronzo aaaah aspetta madonna fammi prendere tutto fammi prendere tutto fammi prendere tutto madonna mia ok oh vai mike vai uuuu ottimo fammi andare qua sotto che mi sa che ci sta roba mike guarda che qua sotto c'ho due che mi vogliono fare la bua te lo dico bene bene mi stanno dando guarda come scivola ok mike qua mike qua mike qua mazzo che pezza questo ma sei scemo ma siete dei scemi siete madonna quante belle munizioni ragazzi io ovviamente intanto mi uso queste che non mi piacciono per niente sapete che a me la mitraglietta non è che me faccia impazzire ok io vado qua sotto che cazzo ne so ok però mi sembra un po' esagerata la tua ok questo me lo prendo e io me ne vado qua mike tu intanto fai tutto quello che vuoi ma veramente fai tutto quello che vuoi ma sentite i scudi che si rompono nooo vai così ma vai su lion ma che uuuu vai così lion aspetta e qua sicuramente qua sicuramente mi servirà un'arma più potente ma mica per niente ok qualcun altro ok ok madonna quello la non la sentirà mai più la fa ancora quante quanto devi sopravvivere però ok prima cosa mi vado a prendere questo qua qua dentro ci posso entrare madonna le munizioni ma mi è quasi da bianne per quanto sono contento quante munizioni oh mio dio vado a prendere qua dietro e te voglio ammattare mortacci tua uuuu fammi andare un attimo sopra vuoi andare un attimo sopra per vedere che c'è mi sa che non c'è sta niente regà questo quello è morto male non c'è niente qua sopra chissà che pensavo sai magari un tesoro nascosto vaffanculo non c'è provà vaffanculo non c'è provà mortacci come ci provano ok perfetto se entravo qua dentro c'era una porta raga ma tanto io devo supera sto punto non è che invece devo focus a best porca puttana porca puttana Mike aia non so dov'è non so dov'è non so dov'è ragazzi oh grande Mike dicevo 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 mi hanno chiamato al cellulare aspetta aspetta un attimo ok io non so io non so dov'è il tipo probabilmente ma vaffanculo probabilmente ce l'ho sopra però onde evitare madonna intanto c'è sta c'è sta Mike che sta a fare veramente il bordello mortacci sua ok non so dov'è eccolo 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 aia ma tu che cazzo ti ridi aspetta utilizzo oh raga ma io utilizzo una grande ma che devo qua ok sei morto beh adesso ci sei morto allora devo utilizzare assolutamente il cecchino eeeh vaffanculo va rambo di cazzo dei poveri gliele voglio spara' tutte tutte in faccia guardalo che bastardo guardalo così si fa così si fa non c'ho munizioni quindi è inutile prendo un po' la pistola ragazzi intanto mi stanno dando un bel po' di bombe un bel po' di cose eh qua sotto mi sembra che c'è tipo il bordello più assoluto eeeh ok eeeh scusi ma sei proprio un bastardo guarda 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 che stronzo che sei bastardo che non sei altro ok questo l'ho preso ok ce ne stanno 1 2 3 quindi io a sto punto me ne vado qua perchè se ce l'hanno messo ok un modo va che son mine che cazzo ok mortacci loro ma mi fanno via certi colpi raga aia vieni vieni arzo la capocetta ok perfetto aaaa aia mortacci tua o sto male guarda raga che casino ma che cazzo state a dire aaaa no raga sto momento è tragico sto momento è tragico raga sai che ti dico io ce le vado di questo ma che oh bravo stai a fa mortacci tua rompe tutto niente c'è stato riuscito oh bravo nicolas no mike che nicolas che cazzo è mon nicolas aaaa guardalo 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 non ce voglio credo oh dio mio dio mio allora apriamola prima ogni tanto sto cogliore mi spara vicino a me non ho capito che aaaa ma perchè forse mi da aaaa aaaa gosu però occhio a chi spari mortacci tua eh che mi da copertura a me quindi mi da una mano vicino ok cerchiamo di fotterci più roba possibile ragazzi più roba possibile tutto tutto ok questo me vuole far fuori meno male allora non so se è stato il potenziamento della pistola a renderla così forte o se semplicemente sono scarsi eeeh i zombie qua gli infetti dai 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 bravo 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 bravissimo bravissimo per davvero ok abbiamo aperto la porta con molta non scala madonna la gente non me fa scende non me fa scende scendo qua madonna mia me ne vado tantissimo ma questa la posso usare cazzo corpo 2 so usare il mondo e quella non la so usare oh ok via via uh madonna ragazzi sta facendo ok gente che arriva cose che volano ma si ma che cazzo ci frega a noi ok andiamo sempre più avanti in modo siamo arrivati eeeh leon leon eeeh o c'è il bazooka o la mitraglietta aia e dove metta il riparo già meglio la madonna che figata ragazzi secondo voi per quanti minuti ancora sta in aria sto elicottero? secondo me pochi per poco tempo ragazzi eeeh era sicuro raga era sicuro raga era sicuro parco 2 1 bono ce l'avevamo mortacci loro mortacci loro mortacci loro meno meno si mi spiace leon in fondo buona fortuna tu madre eeeh qua la betoniera ma porco 2 o tanto bravo era quel mike va fammi vedere la mappa va ok l'avanti a sinistra superata una porta c'abbiamo il tesoro mi sembra che ancora sia un pochino presto per chiudere qua quindi me ne voglio andare un po' avanti qua c'abbiamo un bel boulotto ok qualche arma da caricare praticamente tutte quindi ci carichiamo questa eeeh ci carichiamo questa qua e poi che ci abbiamo la magnum non la carico quello non lo carico eeeh no vado in giro comunque con la mitra perchè quella che per il momento ho più munizioni al livello di numero al livello di potenza ovviamente assolutamente no quindi dobbiamo passare questa porta qua e subito dopo c'è il tesoro ok qua da qualche parte c'è il tesoro raga vediamo un po' eh qua davanti mi dice qua davanti com'è possibile aspetta ma magari mi dici sotto magari mi stai dicendo sotto no 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 dietro di me tipo qua da qualche parte ci dovrebbe essere un tesoro guarda come lo zoompo sto maledetto eh oh mi dice che ce l'ho a due passi indietro tipo qua ragazzi io non vedo nessun tesoro nessuna cosa che brilla zero 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 e beh me ne vado giù raga perchè tanto inutile perde c'è ah mortacci tua ciondolo con perla grazie e io che stavo a perdere miliardi di secondi ok quante cazzina oggi aia aia oh oh leon non esagerare eh bravo sulla gamba bravo porco due ragazzi eh sarebbe anche ora oh oh we have to get that parasite out of your body yeah but before that I got to save Ashley fine let's split up tanto non è che siamo stati molto uniti insomma io e te eh cioè non mi pare proprio strano nessuna capovolta nessuna giravolta sei semplicemente passata vabbè sono rimasto un po' deluso questa qua mi dava tanto che la potevo spingere poi ci siamo separati che poi tanto dobbiamo andare nella stessa direzione ma cooperà mai una volta eh ok quindi ce ne andiamo da sta parte quella dovrebbe essere una macchina da scrivere ragazzi ah so tornare aspetta l'ho sentito aspetta aspetta abbina a questo che pregio due colpini mortacci mia ok ma no non mi serve la magnum ragazzi non mi serve la magnum vi state sbagliando nooo neanche il fucile a pompa mannaggia squasquasqualantla allora ragazzi io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua se il video vi è piaciuto mi raccomando pollicione in su commentate, condividete io continuo a registrare al prossimo appuntamento con il vostro icechepro89 bella comprehension non non il n ho Grazie.